Musica Cari amici del canale dei roboti del giornalista video brevissimo per mostrarvi quello che si chiama Stage Act Solo of Cholokin Stage Act è una serie di basette e supporti per tutti i prodotti Bandai per tutti i prodotti Bandai nel senso che ce ne sono per ogni scala di robot voi abbiate avete dei Gunpla, avete dei Metal Build, non avete una basetta perché nella scatola non vi è la basetta ecco, questo che vi sto facendo vedere è lo Stage Act studiato appositamente per i modelli grandi della serie Solo of Cholokin naturalmente è utilizzabile anche con altri robot ma le proporzioni, le dimensioni sono quelle corrette per i robot della serie Solo of Cholokin cioè quelli che noi amiamo di più che non sono forniti di basetta incomprensibilmente oserei dire tra questi per l'appunto il nuovo Daltanius GX59R e vi vorrei far vedere per l'appunto con una spesa minima perché questo dovrebbe costare non di più di 25-30 euro e che cosa potrete ottenere allora aprendo la scatola aprendo la scatola troviamo una grossa basetta e una sorta di sostegno di schiena poi un blister di accessori da montare tra cui come nel DX di Bandai come nelle versioni DX dei ganci dove appendere delle carrucole o simulando una sorta di base di hangar del robot ecco qui abbiamo clic clac poi possiamo mettere quanti vogliamo di tutti gli altri accessori poi mettiamo dei gancetti per eventuali per reggere eventuali accessori del robot e poi abbiamo dei ganci da fissare ai lati del poi all'interno della basetta avete una sorta di spazio che è disponibile per eventuali altri accessori del vostro robot da sistemare all'interno ma nella fattispecie vi voglio far vedere quanto può guadagnare a livello di impatto estetico un robot che di suo non ha la basetta qui con noi ancora una volta Koji Kabuto che non posso inquadrarvi per questione di privacy e di copyright ma ecco che se vuole prendere la basetta bianca in maniera tale da il girello vedete quanta importanza acquisti il robot eccolo qui giro prego vorrei dire rendiamo di x i nostri gx bella come frase bravo bravo mi compiaccio rendiamo al grido di rendiamo di x i nostri gx ecco che per trader g7 o per ditan o per daltanius che inspiegabilmente non sono dotati di una basetta questo solo act solo of chogokin è perfetto ma direi anche per il gay king king arts direi anche per il mazinga z king arts e il grande mazinga king arts diciamo per quei modelli che si attestano tra i 24 25 26 centimetri no beh stiamo parlando stiamo parlando quasi di 30 nel senso che è una basetta è un supporto è un display stand ho detto tutti i sinonimi che conoscevo un display stand che è adatto per modelli dai 25 ai 30 centimetri e restituisce al robot quella dignità che la perdita dell'assenza della basetta comunque solleva ecco una cosa assolutamente importante è che purtroppo la mancuna delle mancanze rimane cioè questa basetta è generica quindi sarà vostra cura andare dal vostro stampatore di fiducia e fargli stampare un adesivo con il nome del robot magari in giapponese con scritto solo of chogokin daltanius 59 e appiccicarlo sul frontale magari un magari un adesivo su carta metallica ecco potrebbe essere potrebbe essere una soluzione questo anche perché appunto la basetta non è soltanto per i gx oppure per i modelli della linea solo of chogokin ma è anche appunto per gli eventuali metal build sì esatto oppure per dei modelli comunque di grosse dimensioni però però il metal build ha dalla sua una certa dinamicità per cui ha bisogno di qualcosa che generalmente lo tiene di schiena o di sedere in maniera tale da fare una studia simulare una sorta di volo questa basetta è per simulare un hangar per simulare un come una base una base molto statica ecco e quindi direi che è perfetto appunto per i robot di cui vi ho parlato prima non mi ricordo se è possibile assemblarne una vicino all'altra ma credo no non è non è ma quanto ne sappia no a quanto ne sappia no per potermi comunque anche messa una vicino all'altra se volete fare un'esposizione hangar dei vostri meca diventa comunque una bella cosa da vedere sì esteticamente esteticamente da una da un un grosso boost di presenza al vostro robot bene con questa velocissima micro recensione dai canali dei roboti del giornalista è tutto io e Koji Kabuto vi ringraziamo e vi diamo appuntamento per la prossima recensione grazie grazie a lei giornalista e maggiungo palgaron maggiungo palgaron grazie a tutti grazie a tutti